Il provatore di Bella Pira, eseguito dal penore Venerandi per la casa Patè. Il provatore di Bella Pira, eseguito dal penore Venerandi. Il provatore di Bella Pira, eseguito dal penore Venerandi. Il provatore di Bella Pira, eseguito dal penore Venerandi. Il provatore di Bella Pira, eseguito dal penore Venerandi. Il provatore di Bella Pira, eseguito dal penore Venerandi. Il provatore di Bella Pira, eseguito dal penore Venerandi.